Ragazzi della Via Pal. Nemex seduto su una pietra mangiucchiava il suo pezzo di pane in attesa dell'arrivo dei compagni. Certo, pensava, oggi potrebbero succedere cose interessanti. In certo qual modo si sentiva nell'aria l'imminenza di grandi avvenimenti. In quel momento il piccolo Nemex, soldato semplice, si sentiva molto fiero di appartenere all'illustre compagnia dei ragazzi di Via Pal. Ma sbocconcellare un tozzo di pane non scaccia la noia e il ragazzo si alzò per fare un giretto fra le cataste. Girovagando per le anguste viuzze, a un tratto si trovò di fronte al grosso cane nero dello slovacco. «Ettore!» gli gridò amichevolmente. Ma Ettore non mostrò alcuna voglia di ricambiare il saluto con altrettanta cordialità. Agitò soltanto macchinalmente la coda, un gesto che secondo il galateo canino equivale a un saluto distratto e frettoloso. E senza fermarsi nemmeno per un istante se ne andò di corsa abbaiando furiosamente. Il biondino ricorse dietro incuriosito. Vide il cane fermò ai piedi di una catasta abbaiare ancora con maggiore rabbia mentre teneva lo sguardo fisso verso l'alto. La catasta senza dubbio era una di quelle fortificate, un bastione vero e proprio, con sulla cima una cinta di mura costruita di travi e su un'asta sottile una bandierina bicolore. Tutto sembrava essere a posto, tuttavia Ettore si agitava sempre più girando forse innatamente intorno alla fortezza e non smettendo di ringhiare e di guardare verso la cima. «Che ti prende?» domandò allora il ragazzino biondo al cane nero. Loro due erano legati da una grande amicizia, forse anche per il fatto che erano gli unici a non avere alcun grado nell'illustre compagnia del gronde. Ogni modo guardò su di nuovo verso la cima della catasta e di nuovo non noto niente di anormale. Questa volta però ebbe la netta sensazione che qualcuno si nascondesse dietro la cinta di mura. Per un istante restò interdetto, d'altra parte l'idea gli sembrava tanto assurda da essere inammissibile. Superando la momentanea crisi di scoraggiamento decise che anche per sua tranquillità sarebbe stato bene rendersi conto personalmente della situazione e così, eroicamente, cominciò ad arrampicarsi sulla catasta, appoggiandosi con le mani e i piedi alle sporgenze dei tronchi. Era già a metà strada quando si sentì veramente agghiacciare il sangue nelle vene. Udi, questa volta senza alcuna possibilità di sbaglio, che lassù qualcuno si muoveva, poiché il rumore delle travi spostate arrivava chiaramente alle sue orecchie. Il cuore li cominciò a battere all'impazzata e il biondino, spaventato a morte, si sentì pronto a una precipitosa ritirata. Ma guardando verso il basso, più che altro per trovare un punto sicuro dove appoggiare il piede per la discesa, il suo sguardo incontrò quello spavalde bellicoso di Ettore, che destò in lui un senso di vergogna per la propria pusillinaminità e al contempo gli fu anche di stimolo. Non aver paura Nemex, si dice sottovoce e con una risolutezza rinvigorita, seppure non senza timore, e riprese la sua scalata. A ogni passo sentiva il bisogno di incoraggiarsi. Non aver paura Nemex, si ripeteva a mezza voce per ascoltarsi. Non devi aver paura, non aver paura Nemex. In quel modo arrivò in cima alla catasta. Con un'esortazione finale, non aver paura Nemex, si stava preparando a scavalcare il muro di cinta della fortezza, ma rimase con la gamba a mezz'aria e dalla sua gola eruppe un grido di spavento. A momenti rischia di perdere l'equilibrio e nemmeno lui riuscì a capire come aveva fatto a toccare nuovamente terra. Il cuore dimartellava nel petto, ma rincuorato dal fatto di sentire finalmente in terreno solido sotto i piedi e rassicurato dalla distanza che lo separava dalla cima della fortezza, osò a rischiarsi a guardare in su. E là, in alto, vicino all'asta, dalla bandiera col piede destro sul muro di cinta, nella posa caratteristica del conquistatore, giganteggiava la figura di Feriaz, del terribile Feriaz, nemico numero uno di quelli di Via Pal, capo della banda dell'orto botanico. Il vento fece svolazzare la larga camicia rossa che aveva indosso e lui, con un ghigno mefistofelico, ripetè, sillabando sarcasticamente le stesse parole del biondino, non aver paura, Nemexec. Ma in quel momento il biondino non aveva più paura, era addirittura terrorizzato e scappava a gambe levate, preoccupandosi solo di essere il più lontano possibile dalla fortezza. Il cane nero lo seguì senza esitazione e i due, in una corsa pazza, attraversarono il labirinto delle viuzze fra le cataste, in direzione del grunde. Il venticello ci pensò a far arrivare ancora una volta alle loro orecchie l'esortazione beffarda di Feriaz. Non aver paura, Nemexec. Giunto finalmente nel porto rassicurante del grunde, il ragazzino usò voltarsi. Sulla cima del forte non svolazzava più nel vento la camicia rossa del nemico, ma non sventolava nemmeno la bandierina rossa verde che la sorella di Xele aveva cucito per loro con le proprie mani, a maggior gloria dei ragazzi di Via Pal. Evidentemente l'aveva presa, quale trofeo, il diabolico Azz, che in quel momento con ogni probabilità stava dirigendosi attraverso il cortile della segheria verso l'uscita di Via Maria, a meno che non si trovasse ancora lì, nascosto fra i mucchi di legname, magari insieme con i due pastor, suoi amici per la pelle, che l'avevano aspettato da qualche parte. Al solo pensiero che i pastor potessero essere ancora lì a pochi passi da lui, Nemex sentì un brivido correre di lerla schiena. Già lui ormai sapeva, per esperienza personale, cosa voleva dire trovarsi faccia a faccia con gli sciagurati fratelli. In confronto a loro, persino Feriazza, gli pareva meno terribile. A ripensare bene doveva ammettere che nonostante la paura provata per lui, quel ragazzo in fin dei conti gli era piaciuto. Era un bel moretto robusto e dal portamento fiero, e quella sua camicia rossa gli conferiva un aspetto marziale, forse perché alla camicia rossa si associava inevitabilmente l'immagine dei Garibaldini. Non si sa se all'origine della preferenza di Feriazza per questo modo di vestire centrava o no l'eroe dei due monti, ma certo è che Feriazza centrava in modo determinante sul modo di vestire di quelli dell'orto botanico, volendo limitare tutti quanti accettavano per divisa la camicia rossa. A un tratto sulla porticina della staccionata del campo si udirono nettamente quattro colpi uno dopo l'altro a intervalli irregolari. Nemex lasciò fuggire un sospiro di sollievo, quel modo di bussare era segnare dei ragazzi del gronde. Il biondino si precipitò alla porta, rimosso il paletto e aprì. Entrarono Xelex e Gerebbe, gentilmente spinti avanti dalle pacche paterne di bocca. Nemex ardeva dalla voglia di informare i compagni subito e con abbondanza di particolari della spaventosa novità, ma ricordandosi di essere un soldato semplice e quindi di avere certi doveri verso i superiori scattò sull'attenti e fece un irreprensibile saluto militare. Salve, dissero i tre. Novità? Nemex, che avrebbe voluto raccontare tutto ad un fiato soprafatto dall'emozione, si trovò senza fiato. Orribile, fu tutto quello che riuscì a dire. Che cosa? Una cosa terribile. Voi forse? Ma cos'è successo? Ferryaz è stato qui. I tre ragazzi rimasero di stucco, si guardarono con arga spaventata. Non è possibile, disse finalmente Gerebbe, più che altro per rincuorarsi. Nemex portò la mano al petto. Lo giuro. Non giurare, lo retarguì bruscamente bocca, e per dare maggior peso al suo ordine intimò sull'attenti. Nemex obbedì, scattando, e bocca gli si avvicinò. Adesso racconta tutto per filo e per segno, ordinò. Signor sì. Ecco, andando a zonzo fra le cataste, è un tratto senso che Ettore si mette ad abbaiare. Vada a vedere che cos'è e lo trova ai piedi della fortezza centrale, che abbaia e guarda insistentemente verso l'alto. Guardo io pure, tendo anche le orecchie, sento certi rumori provenire dalla cittadella. Allora mi arrampico. In cima vedo Ferryaz con la camicia rossa. In cima, vuoi dire nella fortezza? Proprio là, confermò il piccolo, e gli venne di giurare ancora una volta. Già muoveva la mano per portarla al cuore, quando lo sguardo severo di bocca lo fermò. Così si limitò a soggiungere. E ha anche portato via la bandiera. La bandiera, urlò Xele, al quale sembrava contaminato anche l'onore della sua famiglia. Tutti e quattro corsero sul posto. Nemex modestamente si teneva indietro, un po' perché era soldato semplice, un po' perché non poteva escludere con certezza assoluta che Ferryaz si nascondesse ancora lì, tra il meandre delle cataste. Ai ragazzi che si fermarono di fronte alla fortezza non restò che constatare diviso la sparizione della bandiera. Questa era sparita così completamente che non era rimasta in ricordo nemmeno l'asta.